E signori, buon 2024 a tutti, ma soprattutto benvenuti in questo nuovissimo video del signor ferro Oggi siamo qua per un qualcosa di veramente incredibile, ovvero provare a battere il record mondiale del 2024 E fermi che qua devo un attimo fare un po' di... Cioè, devo tryhardare, devo tryhardare perché raga, sicuramente se voglio fare il record Devo killare tutti, ma ancora prima di killare tutti non devo morire Dove sta il tizio? Ma che... Ma di cosa stiamo parlando? Ma raga, ma che botta mi ha tirato? No No, ok, zitti tutti, raga zitti Questo mi ha tirato una botta assurda, non mi ha più beccato Zitti, zitti, zitti Medikit, mi rubo il pompa e sento gente pushare Allora, calmi, devo fare il record, devo pushare letteralmente tutti Ma soprattutto ribadisco, non devo morire Quindi raga, calmi, ok, prendiamo il pompa Raga, devo pushare No, 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 fermi Ok, quello è un bot Ok, quello non è un bot invece Ok, killato, 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 ok Pese al kill, non so se andrà a pushare Magari raga ci stanno altre persone all'intorno Anche perché da solo il tizio... Ah no, stava semplicemente proprio sparando al bot Ok Molto bella come cosa Vieni qua, brother, che uccido pure te Si va a prendere il medaglione, raga Non avete capito questa partita? Deve essere una fast life Fast game, signori, devo pushare tutti Anche perché già 73 player Due killoze per noi Non siamo messi male, ma neanche bene Quindi... Veloci Ok, no, 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 no Questa è la guardia, non è il boss Io raga voglio il boss, eh Ma è sicuro che... Voglio il boss, dove sta? Raga, sta con la qualche parte ho paura Boss Raga, ma... E... Sparito il boss Signori, sparito il boss Oh, boss, dove stai? Vabbè, più tempo... Ok, eccolo, eccolo, eccolo Mi fatemi killa prima lui Bravo, ok Già metà vita tolta, raga, eh Vabbè, mi tankata verso il muro Mi sono ricordato che questo è il bot più forte al mondo Ok Vai, vai, rifullati di scudo pure Mi fa a me che non sei altro Ok No, 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 no No, 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 raga Ok Situazione brutta come al solito, ragazzi Veramente Sto bot, raga, da killare da soli è difficilissimo Ok Dai, muorici, per favore No, ragazzi, è troppo difficile, ve lo giuro Ok, fermi 165 e non muore Raga, è più difficile killare il boss che vincere la partita Ok, ok Muorici, muorici Dai, raga, manca poco Muori Ti prego Ok, ok Fermi Medaglione Arma Arma ancora più forte Lasero Boom Kill E let's go Devo andare a pushare tutti, raga A quel tal paese del bunker, raga Devo letteralmente solo pushare 55 player già Raga, ci sta un player Guardalo, guardalo Sì, vabbè, mongrel Ok, fullboxato No, no Ok, mamma mia, raga Raga, il ferro è forte, però La gente, mannaggia Oh Questo guai, raga, che era? Aveva zero di ping Meno di zero addirittura Comunque Killato pure lui, signori Prendiamoci Tutti questi shieldini, raga Bisogna pushare Cioè, letteralmente, raga Sarà una partita di sacrificio Come quando il vostro mister vi dice Vi dice Sacrificio, metà partita Dovete pushare tutti E, cioè Voi dovreste far gol Dovete correre dietro l'avversario Io devo pushare tutti Ecco, un po' diversa la cosa, onestamente Però il concetto è quello Ok, raga, un altro mi ha sparato Mi ha sparato un altro E spero non sia una guardia Perché quello che io voglio È che sia una persona E che possa prendere una kill Sì, raga, un player Un player, un player Un player Si va a pushare subito Che addirittura, raga Stava fightando con un altro Eh, sì Al volo E poi pushare Ho sentito altre persone Quattro player rimasti E, sì Cioè, avrei già quitato Quattro kill per noi, signori Ma Quarantasei player rimasti Qua ci sta l'altro tizio Con il coso No, raga Comunque, la gente Non è, non è scarsa, eh Non è per nulla scarsa Non è, forse Ragazzi Cos'è? Gennaio 2024 Tutti diventati pro players Pro players, no, raga Non sarete mai come ferro Peccato che il bro Scappa Piramide Ok Mamma mia, raga Sono proprio più forte Mamma mia Quanto siamo più forti, signori Ma l'avete droppato Un codice ferro Oppure no qua, eh Signori, mi raccomando Per tutti Il codice ferro Nel negozoggiati Per il massimo supporto Per iniziare al meglio Questo nuovo anno E, raga Dove sta il tizio Col medaglione Porca paletta Intanto Devo stare attento A dove vado Raga, ma ci sta un tizio Col medaglione qua Ve lo giuro Penso che sia letteralmente Scappato Il problema Non so dove In ogni caso Qua ci stava un altro player Raga Qua c'è la gente Dove stanno E, vabbè, ragazzi Ma che macchina è questa Ma, raga Ma che macchina è Bellissima Ok, vabbè Non è il momento Di guardare l'auto Ma di pushare 34 player rimasti Cioè, 33 Volevo dire 5 kill per noi Nel frattempo, ragazzi Scrivetemi nei commenti Qual è, secondo voi Il nuovo record del 2024 Ma soprattutto Il vostro record di kill Totale di sempre Voglio Sono molto curioso, ragazzi Il mio Giusto per dirvelo È 26 addirittura Il vostro Scrivetelo nei commenti E se il gioco Mi degnasse Di far trovare persone Ok, questo è il primo, raga Fermi No, no, no Vabbè, il bro Ok Ok, let's go Il lato, ok Non era proprio Il più forte del mondo Però, raga A noi Che si frega A noi Servono le kill Non ci servono I nabi Però non mi interessa Letteramente nulla Io voglio le kill E basta Quindi datemi player Abbiamo 6 kill, raga È troppo poco Comunque, raga Dalla mia voce Si può denotare Che ho fatto l'ultimo Dell'anno ieri Come, vabbè, penso tutti E sta cosa non va bene Ma è che voi in questo video Lo vedrete il 2 addirittura Quindi, vabbè Ok, ragazzi, ho un player No, no, no Una moto che luccica, ok Player No, 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 raga Questo c'è il cecchino Mamma mia Se mi avesse sniperato in testa Fermi Guardate che gli faccio il bro Ok, ho un granato Devo ricaricare, però Oh Dove è andato? Questo, raga, non è male Questo soprattutto mi vuole blindare, raga Ok, sai cosa ti dico? Sai cosa ti dico, brother? Che tu puoi provare a blindare Tutti Ma non il king dei cecchini, signori Let's go! Ok, questo intanto Ceva il pompa migliore del mio Spiegatemela dopo questa cosa assurda Vabbè E, signori, riprendiamoci l'autina Non è proprio l'autina migliore del mondo, eh Senza una ruota Però sicuramente è meglio della mia Che non aveva più carburante In teoria, no? In pratica, forse, raga Un po' di carburante ce l'aveva ancora Oddio, sì, dai Può andare ancora un per po' Ok, raga, ci sta il tizio della taglia 7 kill per noi 20 persone rimaste Cioè, il tizio della taglia Il tizio della... Vabbè, avete capito Voi sicuramente avete capito Precisamente dove sta? Dove sta qua, raga Rotaglia Ok, fermi Dove sta? Ok, la prima presa, raga, sta ancora dentro No, raga, non lo so dove sta Dove cavolo stai? Ok, ragazziti Peccato, raga, qua No, raga, qua sotto Fermi Oh, mio Dio, signori Let's go Ok, fatemi prendere questa Fatemi chiudere Pumpa per noi Raga, abbiamo tutto Pure cecco leggendario Ma che è? C'è un'altra arma mitica qua, eh Mitraglietta, eh, raga, però Non so se mitraglietta o air No, raga, preferisco l'air Oh, porca paletta C'è pure la safe Pure la safe No, non ho preso il medaglione Vabbè, raga, eh, ma fermi Ma, raga, ma dov'è il medaglione? Ma, what the Aveva appena chiamato un altro Eh, ok Non, eh, non voglio far domande Eh, abbiamo tre medaglioni In ogni caso, quindi perfetto 8 kill per noi 16 persone, raga Voglio nuove persone Gioco, ti prego, fammi trovare persone Vabbè, nulla Abbiamo capito che oggi il gioco Non ci vuole far fare il record mondiale Nel 2024 Invece sì Ci sto per prestare un player là No, come ho fatto a missarlo Ma quello non si è accorto proprio di nulla Ok, no, 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 raga Non mi devono rubare le kill Non mi devono assolutamente rubare le kill Ora che gli faccio, eh Mamma mia, no Ok Vi ho messo la piramide pure Oltre che nel box anche sopra No way, ma Vabbè, ragazzi Meccanicamente l'avevo mangiato Mi sono stati tutti i colpi di pompa In ogni caso Vi dato pure questo? No, raga, stanno faiutando Medikit straveloce Ok, no, eccolo là No, raga No, no, non mi devono rubare la kill No Vola ferro Ok, copritevi, vi prego Non mi dovete killare Ok 30 di vita Mamma mia, quanto ho stillato le kill Ok, 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 ok Raga, come l'ho rischiata? Stavamo per killare 11 kill, 11 player rimasti Raga, ok Posso fare 20 bombe Devo pushare tutti Devo letteralmente pushare tutti Raga, non vi killate Più giù, raga Vi do un premio se non vi killate Voglio fare le 20 bombe Ok, raga Medaglione di Peter Griffin Dobbiamo andare qua Dritti al medaglione di Peter Griffin Mi raccomando, non Griffin, eh Certo che un'auto col turbo Me la potevate dare Eccola Quella là, ragazzi La cambio con la mia Lambo Guardate, eh No, non si è cambiata Perché non c'è la mia Lambo? Vabbè, va bene comunque Almeno c'è il turbo, raga, eh Dovrebbe stare qua davanti il tizio Ok, raga Questo potrebbe essere uno dei più forti della mappa Essendo che Oddio, oddio Dopo di me, ovviamente Dopo del signor Ferro, raga Anzi Ricordo a tutti Codice Ferro, signore Per il massimo supporto In questo nuovo anno Aveva sempre, in realtà Peter Come with me Vieni da me, no? Non con me Dove stai? Eccolo, eccolo là Guardalo, guardalo Mi sta mirando, raga Guardalo Mannaggia Ti prendo il cecchino Ti prendo, eh, Peter Eh, raga Questo non è male L'unica cosa che non voglio è morire il cecchinato, raga Meccanicamente sono molto più forte di tutti E quindi me lo pusho Ma dove passi? Non posso bildare Ok Ma raga, ma che fa? No, no Ma raga, ma è sempre così, eh Sempre così, eh Sapete che io riesco di morire da uno Che, mannaggia Spamma solo con quel pompa Mitico Eh, io ti ho visto, bro No Dov'è? No, raga Prego, datemelo No Datemi quel player Voglio il suo medaglione Non posso neanche più fare le 20 bombe Ma voglio piangere Voglio Ok, cecchinato, let's go Guardalo, guardalo là sotto No, raga No, no, no Allora, piano Che se ci vado a morire da questo Mi metto letteralmente a piangere Non sto scherzando Mi metto a piangere se muoio da questo Soprattutto cecchinato Anche perché, raga 11,9 persone rimaste Voglio Oh, non ho piano Dov'è andato? No, raga Ve lo giuro, voglio piangere Mi dai un medikit Drone del cavolo Ti prego Grazie Forse il drone del cavolo Non era uno dei migliori modi Per, non lo so Farmi dare il medikit Però va bene comunque Bende Buono Grazie gioco Ok, sono morti tutti Così da nulla 6 persone rimaste Comunque 11 kill abbiamo, raga Per favore Fatemene far 15 di kill Ancora almeno 4 Ok, devo killare praticamente tutti Però non fatemi morire Nel shot da un cecchino, raga Solo quello, chiedo Dopo fare il kill Ci penso io, promesso Raga, comunque dovrebbe stare ancora qua Il tizio di Peter Cioè, dove cavolo sta il tizio col medaglione? Non lo vedo Eppure la minimappa mi dice che è qua Ma che cavolo Che è, raga, è andato sotto la mappa? No, raga Non ditemi che sta sotto davvero Non ditemi che sta sotto davvero No, raga Dai, ma che infame Rattoppiamoci la vita Let's go So quanto avrò speso, raga Tanto, raga, stiamo pure per finire i mazze Sta cosa è la cosa più sbagliata e orrenda che ci sia Se io, raga, finisco i mazze Sono morto Letteralmente Sono letteralmente mortissimo No, raga, ma non avete capito Mi ho provato a sniper davvero Raga, ma io non so dov'è sto infame È ancora lui, ok Mamma mia, quanto godo Quanto godo Quanto godo Signori Abbiamo letteralmente tutto Abbiamo letteralmente qualsiasi cosa che si può chiedere Ok Dove stanno i player? Abbiamo pure full mazze Non ci credo, che bello No, 5 player Devo killare 3 No, 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 no Non vi sparate No, no, no No, 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 raga Insomma, no Si killano Oh, mio Dio Ok No, no, no Non vi killate Vi prego, vi prego, vi prego Ok No, raga, non può No, 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 no Ricarica No, no, no Ti prego Non vi dovete killare Venti, te quello è stato scillato Ok, raga, sembra un botazzi Vi prego No, no, no Non vi killate Mi scoggiuro Ricarica il cecchino, ferro Raga, ho un colpo a disposizione Oh È killato Vabbè Non so come ho fatto Ammissarlo E let's go Signori Oh, mio Dio Ok, non erano le persone più forti del mondo Però, raga Erano molto utili ste kill Siamo a 15 kill totali Fatemi intanto tirare un funghetto, raga Siamo uno contro uno Ma mi dà fastidissimo avere 97 di shield E non 100 Ok, sapete come voglio fare le cose in grande, raga Via le cure, raga L'ultima si fa senza cure L'ultima kill si fa senza cure E stop Completamente, raga Non voglio nessun tipo di cure Neanche i funghetti E si blinda, signori, eh Guarda, eh Adesso meccanicamente Volevo un po' distruggerlo Ok, non è malissimo, raga Piano, piano, piano Ok Ok, blindato Mi faccio il giro, ora No, 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 no No, no, no Raga, non m'ha visto Flint Non m'ha visto Non m'aveva visto Eh, signori 16 kill per noi Spero che questo sia attualmente il record mondiale Sperano che nessun pro player abbia fatto molte più kill Naturalmente me lo batteranno un tempo, un giorno Cioè quando sarà uscito il video già me l'avranno battuto In ogni caso, spero che vi sia piaciuto il video Like, iscrizione Il codice ferrone con soggetti Bella rega Ciao